La bandiera dilaniata esposta alle scuole elementari è l'emblema del disastro che ieri si è abbattuto su Rosà, uno dei comuni più colpiti dalla Grandine. Si fa la conta dei danni. La stessa giunta comunale, che si è riunita in seduta straordinaria per chiedere lo stato di calamità naturale, si è rimboccata le maniche, sindaco in primis, per sistemare il disastro causato dalla tempesta di ghiaccio. Al lavoro, alle scuole, per sistemare il più possibile, visto che domani iniziano le elezioni. I danni sono enormi, ingenti. Ogni volta che entriamo in un processo scolastico ci sono sempre danni nuovi. Abbiamo scelto come giunta di uscire fuori, dare una mano per almeno mettere agibili quando riguarda i giardini, i plessi scolastici, lasciando libertà naturalmente alla squadra di lavoro di salire sui tetti, di sistemare almeno i tetti. Vogliamo partire con la scuola domani, questo è il nostro intento. Intanto è stata richiesta la calamità naturale? Sì, abbiamo fatto una giunta straordinaria, abbiamo chiesto la calamità naturale alla Regione, alla Prefettura e naturalmente speriamo che ci sia una risposta anche a breve. E' riuscita a quantificare i danni al momento? Stiamo facendo delle indagini sui tetti, stiamo facendo delle foto. Inoltre attualmente non abbiamo ancora dei danni ben precisi. Dico solo che ad esempio nel municipio c'è del tetto da rifare completamente, per cui già là i 80.000 euro, i 100.000 euro vanno. Senta, per quanto riguarda gli edifici scolastici, quali sono i principali disagi? Beh, abbiamo la palestra Balbi che naturalmente aveva tutti i lucernari a nord che prendeva luce, sono stati distrutti totalmente, per cui stiamo lavorando di copertura, ma c'è in sicurezza. Il pala sport, abbiamo l'anfiteatro, le seggioline tutte rotte, abbiamo ingenti danni dappertutto.